Buon di buona gente, sono Luigi in Artelusio e benvenuti a questa nuova video recensione. Allora, il romanzo, o meglio il racconto, vabbè, posso dire ho un racconto lungo, un romanzo breve, mi piace definirlo più romanzo breve. Comunque, l'opera di cui vengo a parlare oggi non è molto facile da spiegare, perché non si tratta di un qualcosa di narrativamente tradizionale. Ecco, mi verrebbe da definirlo una sorta di opera d'arte, no, nemmeno opera d'arte, perché sarebbe un po' troppo esagerato, no, non dico esagerato, ma ecco, non restituirebbe bene appieno il senso di quello che mi ha lasciato questo racconto, questo romanzo. Per dirvi, sapete cosa mi ha fatto venire in mente? Avete presente quei quadri cinquecenteschi che raccontavano una storia rappresentandola su più piani all'interno di un unico quadro? Quindi, che so, in primo piano si metteva il focus della narrazione, il punto centrale, più indietro si metteva l'inizio e sullo sfondo la conclusione del racconto, ecco. Oppure, tipo, gli arazzi che, messi in linea seguendo la trama, ti raccontavano tutta una vicenda che tu svelavi a poco a poco. Ecco, questo racconto, questo romanzo, mi verrebbe da definirlo proprio un arazzo, un arazzo che però tu devi interpretare, perché l'artista, colui che l'ha ricamato, ti ha lasciato degli indizi per comprendere la storia, ma non ti ha lasciato un manuale chiaro per capire bene tutto e tu non hai una guida che ti spieghi l'antefatto, la lore e la conclusione. Bando alle ciance, oggi vi parlo di Nella verde gola delle lupe, racconto o romanzo scritto a quattro mani da Lucrezia Pei e Ornella Soncini è illustrato da Marco Calvi, un artista che seguo su Instagram, molto bravo il suo stile, come potete vedere anche dalla copertina, è bellissimo, a me piace molto il suo stile. Confesso che ho voluto leggere quest'opera principalmente perché ero rimasto incantato dalle illustrazioni fatte da Marco, però non me ne sono pentito perché le illustrazioni sono importantissime perché ti portano e ti veicolano lungo la narrazione, quindi ne sono parte integrante, ma la storia in sé è bellissima. Allora, non so come parlarvi appieno della trama perché come vi ho detto già all'inizio non è narrativamente convenzionale come storia, perché è come, se posso citare un poco, lo stile di Virginia Woolf è un racconto che non si preoccupa di darti un incipit, un principio, un prologo, uno svolgimento e una fine in cui ti viene raccontato e spiegato tutto nel dettaglio o in cosa, no. Cioè, l'antefatto ti viene rivelato a poco a poco, a mano avanti che vai con la lettura, ma all'inizio ti lascia completamente sconvolto, non ti spiega niente, ti butta direttamente a capofitto all'interno della narrazione, del contesto che fa da cornice a questo romanzo breve e tu devi districarti tra queste informazioni, devi cercare di comprendere, magari ti perdi qualche passaggio lungo la strada, però alla fine a mano a mano che vai avanti capisci certe cose, alcune cose magari non ti vengono mai spiegate concretamente, altre magari le interpreti, te ne fai tu un'idea, io ad esempio mi sono fatto una mia idea che non so se è quella che le autrici volevano rendere, però è una spiegazione che bene o male ho dedotto e che mi sono dovuto anche far bastare, perché la conclusione per quanto sia presente ti lascia con molte domande, non ti fa capire ad esempio come andrà avanti, magari quindi questo potrebbe dispiacere un po' coi lettori che si aspettano una storia completa, però secondo me questa mancanza di una spiegazione definitiva per ogni domanda che sorge in questo racconto, secondo me è quello che fa, che rende questo romanzo degno di essere letto e soprattutto penso sia il suo miglior pregio, perché permette al lettore, alla lettrice di farsi un'idea, di cercare di comprendere appieno, di fare quello sforzo maggiore in più per comprendere la narrazione. Ecco, con questa premessa provo un po' a farvi un sunto della trama. Allora, ci troviamo in una comunità di donne e lupo all'interno di una foresta, che vivono secondo un determinato ordine religioso, secondo un determinato culto, che sembra essere un po' un mix di antichi culti pagani, come ad esempio il culto, io ho pensato subito al culto della dea Diana o della dea Ecate, che se consideriamo la riscoperta della stregoneria tra fine ottocento e inizio novecento, venivano viste come numi tutelari della stregoneria, ma anche con un mix di cristianesimo. Infatti, questa comunità di donne non nominano mai una divinità maschile, ma nominano sempre una divinità femminile, nostra donna, che da come ci viene lasciato intendere, altri non sarebbe che una raffigurazione della Vergine Maria. E soprattutto poi si basano sull'esempio di una santa patrona, Santa Agilulfa, e qui ne approfitto per mostrarvi magari le doti di Marco Calvi. Ecco qua un'illustrazione di Santa Agilulfa, bellissimo proprio, uno stile bellissimo. Io mi sono innamorato di questa illustrazione. Un Santa Agilulfa che sembra quasi... Avete presente la principessa presente nella leggenda di San Giorgio? Ecco, la principessa che viene salvata dal drago ferito a morte da San Giorgio. San Giorgio che chiede alla principessa di mettere la sua cintura al collo del drago in modo da portarlo nella sua città dove il drago verrà ucciso. Ecco, questa è la principessa di San Giorgio che si salva da sola, senza l'intercessione maschile, e non deve combattere contro un drago, ma contro questo lupo enorme, questa sorta di ferrir, divoratore. E qui il tema del lupo è molto importante. Basti pensare appunto il titolo, nella verde gola delle lupe. Il lupo che in questo racconto ha una doppia ambivalenza, come tutto ciò che ha a che fare con la natura. La natura che è benevola e malefica al tempo stesso. E il lupo che è al tempo stesso malvagio, oscuro, malefico, come appunto l'uomo, gli uomini, i maschi visti da questa comunità di donne. Che appunto quando parlano degli uomini parlano appunto del lupo. Qui proprio un rimando a cappuccetto rosso, non per niente la protagonista a questa cascata di capelli rossi, ecco, manca a dirlo. Però al tempo stesso anche nella comunità civile, cittadina, chiamiamola così, quella più cristiana, tradizionale, che fa un po' da contraltare a questa comunità di donne che vive nella foresta, le vede come se fossero appunto delle donne lupo. Che possiamo intenderlo sia nel senso dispericiativo del termine, infatti in epoche antiche con lupa si intendeva una donna di facili costumi. Basti pensare al mito della lupa di Romolo e Remo, secondo una lettura più storicamente accurata, la lupa che allattò Romolo e Remo non sarebbe stata veramente una lupa, ma una prostituta che avrebbe trovato i neonati e li avrebbe nutriti e adottati. Oppure pensiamo anche alla lupa di Giovanni Verga, come viene definita appunto questa donna matura, che comunque continua ad essere una seduzione per ogni uomo. E infatti vediamo anche il contraltare, ovvero come queste donne vengono viste da questa comunità più tradizionale, come queste streghe che si trasformano in lupe durante il loro sabba e divorano gli uomini, cosa che ovviamente non è vera, sono chiacchiere di comari di paese, appunto le comari di Bocca di Rosa e di De Andrè, per dirla tutta. Quindi le donne che ce l'hanno con quelle che gli rubano l'osso. Infatti c'è tra i vari culti, tra le varie tradizioni e usi di questa comunità di donne, c'è quello di incontrarsi periodicamente con gli uomini del villaggio per accoppiarsi con loro in modo da continuare a procreare, ad avere altri figli. Le figlie femmine ovviamente vengono allevate, cresciute all'interno della comunità, i figli maschi vengono lasciati nella foresta dove o muoiono distenti se non vengono recuperati subito oppure se ritrovati vengono messi negli orfanotrofi e non vengono trovati trovatelli ma appunto per questa loro origine vengono definiti lupari, termine che viene usato a volte come segno distintivo, molte volte invece come segno dispregiativo. Ecco, e questo è per creare un poco l'antefatto, per capire un poco la loro, il contesto che come ho detto ci viene rivelato a mano a mano che andiamo avanti con la narrazione. La storia principale poi è raccontata attraverso vari punti di vista, principalmente quelli di una linea femminile diretta all'interno di questa comunità, principalmente attraverso la protagonista, quella che è la vera protagonista, che è Ana, questa ragazzina a metà strada tra l'infanzia e l'adolescenza, infatti proprio a metà racconto lei avrà il menarca, quindi avrà le prime regole, cosa che la dovrebbe portare a partecipare a questi riti in cui si accoppia con gli altri uomini, cosa che però lei vuole evitare perché è stata cresciuta con l'idea che gli uomini sono dei lupi e lei li vede appunto come se fossero lupi malefici e ne ha paura. Vediamo poi anche il punto di vista di sua madre, una donna che è quella un po' più recalcitrante alle regole, infatti se le donne devono incontrarsi con gli uomini una sola volta all'anno, una sola volta ogni tot, lei continua a incontrarsi periodicamente con quello che è il suo compagno, tra virgolette, il padre delle sue figlie. Che sembra essere collegato a lei molto più strettamente di quanto non si direbbe, almeno questa è l'idea che ne ho tratto io da certi elementi che ritornano. Quindi come vediamo questa è una cosa narrativamente inaspettata, di solito è sempre la protagonista giovane che si ribella alle regole, e comunque Anna, la protagonista, si ribella alle regole, lei cerca di scoprire qualcosa in più, ad esempio si avvicina ai testi sacri della sua comunità quando non dovrebbe, eccetera, però è la donna adulta che si ribella alle convenzioni, laddove invece ha una figlia mezzana che comunque è un po' ribelle come lei, due figlie piccole, ancora bambine, e una figlia grande che vive le regole della comunità in cui vive come se non avesse altre possibilità, senza se e senza ma, si lascia andare al flusso, e dall'altro invece abbiamo la nonna, la matriarca, quella che è un po' tra le prime fondatrici di questa comunità, a suo modo anche piuttosto recente, che è quella molto ligia alle regole, agli ordinamenti di questa società, che è consapevole dei rischi del resto del mondo. Quindi abbiamo questo racconto a più voci, che a mano a mano, a seconda dei punti di vista, ci racconta la vita all'interno di questa comunità e ci racconta cosa si nasconde nei segreti di quello che avviene nei non detti, alle volte non rivelando tutto, altre volte rivelando, altre volte lasciando al lettore o alla lettrice libera interpretazione. Tutto questo poi è contornato, come vi ho detto, dalle illustrazioni di Marco Calvi. Allora, mi piacerebbe mostrarvene qualcuna in più, ma non posso, perché, come posso dire, vi toglierei prima di tutto il piacere della lettura e della scoperta. Dall'altro diciamo che c'è una resa di illustrazione, c'è ad esempio questa qui che ve la vorrei mostrare, però non posso, anche perché c'è, come potete vedere anche dalla copertina, c'è una grande cura nella rappresentazione del corpo femminile, ma non è mai con questo nudo anche completo e anche esplicito, ma non è mai volgare, anzi, è un nudo che mi verrebbe da definire sacrale. Qui la donna non viene, nella sua nudità non viene oggettificata, viene sacramentata. Il nudo qui è molto sacrale, ci viene rappresentata la donna nuda come Ana, ancora innocente, appunto, non toccata da mano umana. Dall'altro vediamo anche la donna vista come creatrice di vita, quindi con queste donne gravide, che rimandano molto alle sculture delle venere, delle veneri madre terra, quelle dei popoli primitivi, con questi ventri prominenti, questi seni gonfi, e queste vagine ben in evidenza. Ma non è mai volgare, anzi, è molto simbolico, e soprattutto, lo so, per molti potrebbe sembrare quasi un controsenso, ma secondo me un controsenso non c'è, è molto rispettoso del corpo femminile, restituisce la femminilità alla sua essenza, senza toglierne in alcun modo la dignità, perché appunto questo racconto è proprio, secondo me, un elogio alla femminilità, alla femminilità presa nella sua forza più pura, che è la femminilità quella che crea la vita, ma non unicamente per sottomettersi alla volontà del maschio, questo no, le donne qui creano già, ma vivono anche indipendentemente, anche a costo di risultare appunto alla stregua delle streghe, diventando poi loro stesse delle lupe, qua anche si porta anche il binomio del lupo, visto come entità negativa si è accostata all'universo maschile, ma anche come femma positivo si è rapportato alla comunità femminile, che appunto sono le lupe. E il finale, allora, non posso dirvi, allora il finale si presta a molte teorie, ed è aperto, mi piacerebbe parlarvene per dirvi un poco cosa ne ho pensato io, ma ho troppa paura di, non solo vi rovinerai la lettura, ecco se lo facessi, caso mai per chi ha letto e ne vuole parlare, può magari lasciare un commento qui giù, e ne parliamo ovviamente con l'allerta spoiler. E beh, che altro dirvi ragazzi? È un testo che vi consiglio, è molto bello, da un punto di vista stilistico mi ha ricordato molto a Ruina di Francesco Iannone per questa sua simbiosi tra realismo e fiabesco, o anche siamo vissuti qui dal giorno in cui siamo nati di Andreas Moster per questo, per il tipo di racconto esistenziale dai toni molto montagnosi, naturalistici, ecco, in cui respiri appieno la natura e la selva tichezza e anche un po' il pericolo annidato all'interno della natura, per cui ve lo consiglio di cuore. E spero di cuore, quindi io concludo qua la mia recensione, spero di cuore che vi sia piaciuto, lasciatemi un like se così è stato, commentate, ditemi la vostra se avete letto anche voi Nella verde gola delle lupe, se sì, ditemi voi cosa ne avete pensato, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, quali teorie vi siete fatti sul suo finale, ditemi la vostra, sono curioso di sentire la vostra, oppure non l'avete ancora letto ma vi ha incuriosito legge, lo conoscevate, l'opera, lo stile di Marco Calvi, fatemi sapere la vostra qui giù nei commenti. Iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video, mettete mi piace alla mia pagina Facebook, seguitemi anche su Instagram sempre se volete, vi ricordo che se volete sostenere il mio canale potete acquistare i libri di cui vi parlo dai link di affiliazione Amazon che vi lascio qui giù nell'info box e dal vostro Lusio è tutto, ci vediamo alla prossima e ciao!